Con My190 puoi controllare quali sono i servizi attivi sulla tua sim, gestili dal cellulare o dal sito vodafone.it. MMS, recall, segreteria, avviso di chiamata, chiamami, annuncio cambio numero e tanto altro con pochi semplici passaggi. Scarica My190 app dall'app store del tuo smartphone, tablet, pc o mac e se vuoi saperne di più vai su assistenza.vodafone.it slash privati slash servizi sim